Benvenuti alla resegna stampa di venerdì 13 agosto 2021 sul canale 17 di FanoTV c'è Occhio ai giornali, un commento alla stampa del giorno abbiamo selezionato per voi oggi devo dire abbiamo molte notizie, molte notizie interessanti, curiose quindi andiamo di corsa è subito il santo del giorno. Oggi la chiesa cattolica ricorda i santi martiri Ponziano e Ippolito il sole è sorto alle 6.09 e tramonterà alle 20.17. Adesso il metodo. Anche oggi utilizziamo la copertina di trebimeteo.com, come vedete il termometro che sale un weekend di ferragosto con apice del caldo al centro nord, ci sono anche però i primi temporali su in Alta Italia, tendenza cambio di rotta dopo ferragosto in arrivo con calo termico e temporali appunto iniziando da nord. Intanto questa è la cartina dell'Italia per quanto riguarda la giornata di oggi a mezzogiorno alle 18 e alle 24. Domani sabato andiamo a vederla, eccola qua vedete non c'è molto da dire, andiamo a vedere ferragosto alle 6, a mezzogiorno alle 18 e alle 24. Ma inizio subito con una bella fotografia che ci ha inviato un nostro telespettatore o telespettatrice non ricordo, ecco l'alba di Grotta Mare, l'alba di ieri, ma oggi più o meno sarà la stessa cosa, chissà se sarà più o meno, ma sarà sicuramente così anche a Numana dove ai bagni Marino abbiamo la nostra Roberta Piccini, buongiorno, hai visto la fotografia Roberta? Buongiorno Marco, bellissima, bellissima. Ma lì sarà la stessa cosa immagino. Sì, guarda c'è un'acqua fantastica, è un peccato non fare il bagno. Allora ieri com'è andata la giornata? Immagino sarà stata una giornata di fuoco. Sì, molta affluenza, tanta gente, molto caldo, va bene, il business va bene per fortuna. Vedo dietro di te già un uomo con le gambe a mollo come si dice, insomma, i primi avventori ci sono già, la spiaggia è pronta, allora anche oggi si inizia la battaglia e noi ci salutiamo qui perché abbiamo tante cose da raccontare nei nostri giornali, anzi tra l'altro un po' a proposito di giornali, da Numana, io che guardo tutti i giornali e tutte le edizioni, non c'è molta roba da Numana. Questa mattina abbiamo questa notizia che arriva dalle tue parti, gara folli di motorini nella notte, gare folli, corsi di ragazzini fino alle 3 del mattino scoppia la protesta. Ecco, questa è l'unica notizia che sono riuscito a trovare su Numana in questi giorni, anche oggi. Vabbè, insomma, vuol dire che va tutto bene alla fine, insomma, se questi sono i problemi. Sì, sì, tutto sommato, un paese tranquillo. Un paese tranquillo. Con bambini un po' annoiato. Ok, allora Roberta, grazie, buon lavoro a te. Grazie a voi, buona giornata. Buona vacanza a tutti i tuoi ospiti. Grazie. Andiamo a vedere i giornali, cominciamo dalla prima pagina del Corriere Adriatico edizione di Pesero. Sanità, sanità, non sanno cosa sia, è un virgolettato. Sono le parole di Luca Ceriscioli, ex governatore della Regione Marche, che è stato intervistato da Andrea Taffi del Corriere. Il governatore, dice Ceriscioli, riferendosi ovviamente ad Acquaroli, ha il master plan degli ospedali, però ancora non sa come procedere, ma riconosce un merito all'attuale governatore, ovvero il colpaccio di Mancini testimonial, testimonial delle Marche, mentre sul PD dice non so se mi candido. il Carlino di Pesero, cattolica, ci scippa il San Bartolo, un altro virgolettato. Questa volta a parlare il sindaco di Gabice, che attacca il comune romagnolo, dice promuovono i loro eventi sfruttando il nostro parco. Ma a centro pagina, la foto meravigliosa, una foto che ci apre il cuore, da speranza, il cammino degli eroici, è un gruppo di amici chiamati Belfortissimi, durante una delle tappe verso Santiago. Questo gruppo di amici, da Belfort all'Isauro, è andata fino a Santiago di Compostela, percorrendo 900 chilometri a piedi, trasportando il loro amico in carrozzella. E poi Ferragosto in sordina al mare, niente feste e balli, ma in compenso molta security, molti controlli. E poi il problema della siccità, il mio orto non c'è più, agricoltore KO, viaggio nelle campagne devastate. A Isola del Piano, invece, boschi in fiamme, colpa di un artigiano, i carabinieri hanno scoperto l'autore dell'incendio. E a proposito di siccità, un problema che ci terrà ancora, purtroppo, compagnia per diverse altre giornate. Saranno giornate ancora queste di intenso caldo e anche di rischio incendi. Il caldo diminuirà la prossima settimana, come abbiamo visto, ma per le piogge bisognerà ancora attendere. E allora che cosa succede? Succede che non tutti sanno che dietro a un gesto molto semplice, automatico, dell'apertura di un rubinetto, c'è tanto lavoro, c'è un rifornimento, per esempio, con tante autobotti che stanno facendo la spola in questi giorni, eccetera, eccetera. Ne parla in questo bell'articolo, interessante articolo, Veronica Angeletti, sul Corriere Adriatico, di questa mattina, pagina 10. Il titolo è proprio questo, autobotti in tour per servire l'acqua ai territori assetati. I sindaci invitano al senso di responsabilità, non bisogna sprecare le risorse idriche, l'appello di marche e multiservizi in condizioni di criticità, tutti devono collaborare. E pensate che ci sono, almeno da 10 giorni, 13 autobotti, 14 nel fine settimana, che trasportano 1.425 metri cubi d'acqua per rifornire giornalmente i serbatoi di 24 comuni dell'entroterra. In media 95 viaggi al giorno per garantire acqua potabile ad Acqualagna, Pecchio, Belfort, Alisauro, Borgo Pace, Cagli, Colle del Metauro, Fermignano, Fossumbrone, Frontino, Lunano, Macerata Feltri, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano, Pian di Meleto, Pergola, Petriano, Piobbico, Sasso Corvaro Auditore, Sasso Feltrio, Tavoletto Urbania, Urbino e Valle Foglia. Le sorgenti, infatti, nelle aree interne, soprattutto le più piccole, non riescono a ricaricarsi e dunque sono in sofferenza. Ma ci sono altri particolari, interessanti, anche sconosciuti, se vogliamo, soprattutto i più, che fanno capire esattamente la portata di questo problema. E il resto del Carlino, invece, a pagina 2, raccoglie la testimonianza, lo sconforto di un agricoltore. Uva ridotta di un terzo, viti rimaste mini, siccità shock, gli agricoltori contano i danni. Viaggio in alcune aziende da Cucurano a Monte Felcino, Francesco Bevilacqua di Fano dice io finora mi ero salvato con un pozzo, ma anche dall'acqua, quell'acqua nel pozzo sta finendo. Il Presidente della Coldiretti dice fondi per gli operatori più colpiti, poi indispensabili gli invasi. Questa è la situazione, come potete vedere anche da queste fotografie. L'intervista, invece, a pagina 5 del Corriere di Oggi, a Luca Ceriscioli. Sanità sul territorio. Il centrodestra non sa cosa sia. Io nel Pantano non so se mi candido. Allora, dicevamo, Taffi fa questa intervista all'ex governatore delle Marche, che risponde da casa alle sette e mezzo di sera, appena rientrato dalle ferie nel profondo nord. Allora, che idea si è fatto su 11 mesi di regione targata a centrodestra? Risponde Ceriscioli. L'avevo detto nei primi tempi, è la ricetta populista con i suoi pro, accarezzando il pelo per il verso crea poche contraddizioni, ci si accorge relativamente della qualità di governo, ma nella sostanza è un modo di governare senza progetto. Poi, altre domande. Su Matteo Ricci, i suoi rapporti con Matteo Ricci, il sindaco di Pesero, lui risponde, Ceriscioli dice, beh, ci siamo incontrati in una riunione, lui è andato via prima degli impegni, come dire, prima per impegni non ci siamo parlati, dice, ma almeno al telefono, preferisco, mi accontento di un sano confronto durante queste riunioni negli organismi. Fa bene a mettere i paletti sull'ospedale Ricci? Questa è la domanda ancora di Taffi. E Ceriscioli risponde, sì, assolutamente sì, a parte che non si è capito il progetto alternativo, spero che quello che ha detto Ricci lo abbia condiviso con Acquaroli, per carità è importante che rimanga l'azienda, riferendosi all'azienda ospedale Marche Nord, il percorso difficile è stato fatto per fare questa azienda unica, restava da mettere poi tutti in un'unica casa, e qui fa riferimento all'ospedale unico, che non si farà. Così rimaniamo un po' qui e un po' là per accontentare le promesse fatte a Fano. Cosa scrive in merito ad Acquaroli? Quali sono i meriti? E lui risponde, Mancini, come testimonial delle Marche, dice, ha funzionato. E poi altre domande, ovviamente, interessanti risposte da leggere sul giornale. Poi c'è un fatto di cronaca che è successo su un autobus di linea coinvolta, protagonista, anzi, una donna di 43 anni di origini ecuadoregne, residente a Pesaro, che mercoledì pomeriggio è salita su un autobus urbano in via Solferino, in direzione del centro storico poi Montecchio, non vuole mettere la mascherina, lei, e i passeggeri sono stati fatti salire su un altro mezzo. La donna si è rifiutata di scendere e il controllore è stato costretto a chiamare i carabinieri. Mi vuole aggredire, invece, per fare sesso e ferisce il compagno con un coccio. La pattuglia della polizia è dovuta intervenire più volte nella scorsa notte per sedare alcune liti scoppiate tra le coppie, liti tra coppie senza soluzione di continuità e anche una donna che voleva farla finita. Il racconto, in questo articolo di Luigi Benelli, di quella che è stata appunto la notte piena, diciamo così, per le pattuglie della squadra volanti della polizia di Pesero che è dovuto intervenire in alcune situazioni. Poi tallonava i clienti dell'ipermercato per non pagare la spesa. Qui parliamo di un cinquantenne che è stato denunciato, lui si è giustificato, l'ho fatto solo perché sono in difficoltà economiche. Allora, la scena, immaginatevela, è al Rossini Center della Torraccia dove gli agenti, insomma, il personale della sicurezza interna del supermercato aveva tenuto sotto controllo attraverso le telecamere che sono presenti numerosissime nei supermercati, un uomo che si muoveva con fare circospetto, insomma, con fare un po' stranamente. C'erano delle casse libere ma lui stranamente si infilava dietro, tallonava, attaccato, dietro quelli che nella cassa automatica pagavano per poi uscire. Ne approfittava dell'apertura del cancelletto per infilarsi e ovviamente con la merce senza pagarla. Ecco, questo è un po' il meccanismo raccontato sempre da Benelli sul Corriere Adriatico di questa mattina. Andiamo un attimo a fermo sul Corriere a pagina 29 perché comunque è una notizia che riguarda un po' tutti quanti. Chi ha avuto la disavventura di andare contro un cinghiale con la propria automobile e quindi di avere poi dei danni e quant'altro, ecco, da oggi c'è una speranza in più. Il cinghiale che c'entra donato in corsa la Regione deve risarcire i danni. Questo è un fatto che è successo sulla Felleriense quindi siamo in provincia di Fermo ma c'è stata una causa del giudice di pace che ha dato torto alla Regione Marche e quindi ha condannato la Regione a risarcire i danni subiti dall'auto di una signora di Fermo e a pagare anche le spese legali. Quindi quando ci si scontrerà da adesso in poi con un cinghiale sappiate che insomma c'è questa possibilità in più la colpa è della Regione è una decisione del giudice di pace di Fermo l'avvocato Giuseppe Fedeli che potrebbe aprire la strada a molte altre cause dello stesso tipo visto che gli episodi in particolare nell'arco dell'ultimo anno si sono letteralmente moltiplicati. Da clandestino a pizzaiola questa è una storia bella di quelle storie che fanno sperare perché intanto il protagonista lo andiamo a vedere in questa fotografia pubblicata sul giornale il protagonista è un pizzaiolo marocchino lui si chiama Kamal adesso ha 31 anni si è imbarcato tempo fa con un gommone dalla Libia quando ne aveva appena 16 di anni voleva andare in Italia per imparare a fare la pizza molti dei suoi compagni purtroppo non ce l'hanno fatta invece lui è riuscito a toccare terra il gommone dopo sette giorni di viaggio è stato scortato dalla guardia costiera a Lampedusa ora perché è sul giornale perché è stato contattato dal governo del Marocco questo pizzaiolo che è diventato una star del web su TikTok per esempio lo seguono in 217 mila 83 mila su YouTube su Instagram insomma ha un sacco di visualizzazioni lui fa queste performance sul web e è stato selezionato come ambasciatore della cucina italiana nel mondo arabo tra i marocchini che si sono distinti all'estero per partecipare ad una cerimonia che ogni anno viene organizzata alla presenza niente meno del re ora lui dice come tutti i marocchini è un sogno incontrare il re Mohamed VI adesso non gli resta che attendere disposizioni devono solo capire se decidere se questo incontro verrà in forma virtuale quindi attraverso il computer oppure sarà in presenza e poi c'è un'altra storia bella che arriva da Senigallia ieri vi abbiamo parlato di questo ragazzino di 11 anni che era in vacanza dalle nostre parti adesso è ritornato a Malnate in provincia di Varese era qui con la sua famiglia avete vi abbiamo letto nella giornata di ieri di questo gruppo di persone che si è attivato per farlo giocare in acqua con una sedia speciale ebbene questa storia l'ha letta sempre sul giornale il CT della nazionale Mancini Roberto Mancini il quale ha voluto mandare un messaggio a questo ragazzino al piccolo Luca che adesso vediamo nella fotografia di questo articolo e a lui e ai suoi compagni lo ha salutato e gli ha detto continua a divertirti il saluto del CT della nazionale su una sedia di rotelle che ha vinto un torneo di calcio che gli è stato organizzato appunto prima del suo rientro a casa nel nord Italia questo è l'articolo che troverete sulla pagina del Corriere Adriatico un po' meno un po' meno felice è invece la vicenda di un'altra persona e di un'altra ragazzina disabile che questa volta invece non ne ha 11 ne ha 14 di anni ed è residente in un comune dell'entroterra colpito dal terremoto del 2016 questa ragazzina vorrebbe iscriversi all'Ipsia Renzo Frau di Tolentino ma per ragioni numeriche non potrà accedere a questa scuola perché non ci sono i numeri non ci sono gli studenti e quindi non si può formare la classe e quindi è stata invitata a fare l'iscrizione da un'altra parte addirittura a Civitanova e quindi circa 180 km al giorno teoricamente per seguire la passione della moda e per potersi iscrivere a questo istituto superiore che abbia l'indirizzo adatto per lei e quindi deve andare a Civitanova e fare tutta questa strada sperando che si possa trovare una soluzione tornando invece in provincia di Peso Urbino a Isola del Piano rogo a isola provocato da un sessantenne lavori sul metallo poi le scintille l'uomo residente nella zona è stato denunciato per incendio boschivo colposo adesso rischia fino a 5 anni mentre la pagina di Fano del Corriere Piazza Marcolini sfida aperta depositate in comune 350 firme per non abbattere gli alberi 9 lecci che ci sono lì da ormai tanto tempo sì invece alla ristrutturazione al restyling ma prevedendo preservando scusate il verde tra i promotori c'è l'avvocato Bracci l'archeologo Settis ma c'è anche il Fai e l'upus in fabula nel gruppo che appunto si battono per mantenere lì questi alberi intanto la passeggiata romantica di Fano sarà inaugurata a fine agosto quella che dalla darsena borghese porta verso il mare lavori fino alla ferrovia il costo è 250 mila euro le opere sono subappaltate subappaltate a Paci mentre dalla Vallefoglia la notizia che farà piacere a tutti i Cagliesi che ci ascoltano sempre numerosi ogni mattina e qui in Rassegna Stampa una pioggia di soldi che arriveranno a voi Cagliesi è prevista nei prossimi mesi e serviranno per l'ospedale per la salubrità delle aule scolastiche e per percorsi ciclopedonali e questo lo ha annunciato l'assessore regionale di infrastrutture e lavori pubblici all'edilizia ospedaliera e scolastica Francesco Baldelli in visita alla città risorse consistenti per importanti progetti dirette a migliorare salute e sicurezza dei cittadini di Cagli doppio schiaffo invece da Marotta alla Movida con due repentine ordinanze il sindaco Nicola Barbieri cerca di mettere un freno alla notte marottese chiusura a luna per chi somministra bevande sul lungomare l'asporto invece su vetro vendita vietata queste sono le ultime ordinanze visto che l'estate insomma sta scivolando via la prima misura sarà valida fino al 29 di agosto la seconda si concluderà il 16 e chiusura anticipate è polemica Durbino per anche qui si parla di estate buona la presenza buone le presenze agli spettacoli della festa del Duca stasera l'attore Bocci e Alba Divina in quattro atti commercianti però e giovani non hanno preso bene l'ordinanza del sindaco Gambini più polizia dicono che gente mentre l'altra pagina del Corriere è da Senigallia le bici sfrecciano in corso 2 giugno fioccano le sanzioni di veicili urbani pedoni in pericolo anche il sindaco ha rischiato di essere investito la situazione dice e dicono è intollerabile poi dai carabinieri un ubriaco al volante a Senigallia scatta la denuncia ecco la pagina 9 invece del resto del Carlino c'è questa polemica che parte da Gabice ed è riferita al sindaco di Cattolica Cattolica si è rubata il parco San Bartolo usata l'immagine del colle per due eventi romagnoli dura reazione del sindaco di Gabice c'è Domenico Pascuzzi più cauti invece a Fiorenzuola il presidente del parco dice hanno sbagliato ma loro sono più furbi è davvero credo che in questa frase abbia descritto perfettamente il modus operandi un po' dei romagnoli che ne approfittano su ogni cosa e cercano di vendere quello che possono vendere sono più furbi sono più furbi di noi non c'è niente da fare e quindi cerchiamo di capire anche se è possibile copiare questa furbizia che possa aiutarci caso Alma invece questa è la pagina di Fano del resto del Carlino la Lega chiede la testa di Fanesi Fanesi è l'assessore ai lavori pubblici il vice sindaco del comune di Fano Fratelli d'Italia invita invece a presentare un esposto alla procura della Repubblica contro la decisione romana il clima insomma è bollente tre i fronti aperti due esposti alle procure sportive ordinaria e un ricorso al Tare insomma diciamo che questa decisione di lasciare il Fano in serie D non è piaciuta affatto infatti ne parlano anche insomma su due o tre pagine sempre gli stessi giornali il Fano non si arrende pronto ricorso al Tare il futuro presidente russo dice prima l'appello in regola poi no perché allenatore è Giuffre Giuffre è in città favorito su Alessandrini ma poi la conferma che Giuffre arriva dal Corriere Adriatico eccola qua il titolo il Fano ha scelto Giuffre Giuffre l'amministratore unico russo punta sull'allenatore che ha già avuto alle sue dipendenze al Boiano prendo atto dice della sentenza ma andremo fino in fondo con i ricorsi vogliamo un torneo di vertice intanto il nuovo tecnico parte dai giovani ma i tifosi invocano investimenti anche Isernia e Isola Liri nel passato del trainer la piazza resta scettica insomma i tifosi non si fidano i tifosi fanesi proseguono le proteste contro club e comune chieste le dimissioni dell'assessore fanesi e con questa foto abbiamo iniziato con questa foto chiudiamo quest'alba di Grotta Mare vi ringrazio per aver seguito la rassegna stampa vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci Grazie